Ho rilevato un'anomalia. Javelin Mark II, cercare riparo nei rifugi ambientali. Ripeto, rilevando l'anno di missili Javelin Mark II, le scansioni hanno rilevato qualcosa. Attenzione, due missili in avvicinamento al bersaglio. Qualcuno si è fatto ammazzare qui. No! 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 Resta un solo codice d'arresto elettronico Pertanto sarà possibile fermare un solo missile Usare il codice d'arresto per salvare il bersaglio selezionato Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito